Buongiorno, buongiorno, oggi è il 10 di agosto, siamo a Spinetta, esattamente nelle case ATC di via Prospero Gozzo. Qui siamo di fronte a una situazione che probabilmente non ha uguali. Non ha uguali perché noi abbiamo visitato una serie di altre residenze ATC, ma è un degrado così diffuso e così continuato e stratificato, perché qui ci sono delle stratificazioni, perché io lo posso anche testimoniare visto che è la terza o la quarta volta che vengo ed è una situazione così, è sempre andata crescendo. Quindi la cosa deve essere presa in mano, anche solo dal punto di vista igienico e dell'abitabilità. Noi abbiamo visto anche dei giocattoli, dei tricicli di bambini, quindi a questo punto ci domandiamo, lì in fondo c'è una piscinetta, ci domandiamo anche come è possibile, con quale sguardo crescono questi bambini, con quale odio anche presumo, perché vivere in una situazione di inciviltà così, in uno stato che si considera tra i primi sei o sette del mondo come civiltà, è piuttosto una medaglia negativa e a questo punto cosa dobbiamo dire? Guardate, le immagini sono di per sé esemplificative, ci è cresciuta sopra l'erba, quindi significa proprio che, ecco lì c'è un banchetto, c'è un banchetto probabilmente di qualche scolaretto, lì dietro sepolta c'è una macchina, vedete lo sportellone, c'è una serie di stratificazioni, che comunque denunciano proprio l'abitudine e l'abbandono in qualche modo, perché se sono qui evidentemente qualcuno non le ha portate via o non sono state messe nel posto giusto, ma a questo punto visto che le segnalazioni sono continue, visto che comunque il luogo è un luogo diciamo di una residenza di patrimonio pubblico, perché non dimentichiamoci che l'ATC è un ente pubblico quindi che vive e è sovvenzionato con i nostri soldi, ecco a questo punto anche solo per questo motivo queste cose devono sparire, l'inciviltà è una cifra che ormai sta distinguendo l'evoluzione dei nostri tempi in particolare dell'Occidente che ci avviciniamo sempre, io lo continuo a dire, ma ci avviciniamo sempre di più senza tema di smentire ad alcune visioni che noi avevamo di paesi del terzo mondo e ripeto, a me piange il cuore pensare a questi giovani, questi bambini, perché queste case sono piene di bambini che nascono con questa visione, con questo abbandono, con questo degrado che è visivo, che è pervasivo che comunque segnerà la loro esistenza e poi abbiamo possibile rivolte come succedono nei paesi del nord Europa di questi ragazzi della seconda, terza generazione, perché probabilmente vivono in situazioni di questo genere di banlieue, di degrado, di abbandono e loro sentono estranea questa civiltà, questa cultura perché li lascia in queste condizioni, io dico che ci vuole uno sforzo economico ci vuole uno sforzo anche educativo, formativo, ma bisogna insistere, io non vorrei ritornare qui fra 3, 2, 3, 6 mesi, 2, 3 anni e trovare una situazione ancora ancora più degradata perché significa aver alzato bandiera bianca vedete proprio c'è di tutto, dalle gomme alla colonna di un bagno compensati, divani, residui di olio, scarti domestici, c'è proprio di tutto, zaini una cosa impressionante, io non ho mai visto una cosa così va bene, arrivederci a tutti